Ciao a tutti ragazzi, nuovo vlog diciamo così in cui vi parlo un po' dei progetti del canale perché ho bisogno del vostro aiuto. Io sto partecipando a due concorsi in contemporanea in cui appunto ho bisogno di voi affinché voi mi votiate per anche migliorare il canale diciamo così e permettermi magari di fare qualche viaggio che altrimenti non potrei permettermi essendo disoccupata. Quindi vi lascio i link in descrizione per appunto votarmi a questi concorsi. Il primo si tratta di un concorso di Eden Hotels e mi permetterebbe di farmi un viaggio in base appunto al piazzamento in una delle regioni in Italia, in una regione italiana, mentre il secondo è per vita da turista che ultimamente sta facendo parecchi di questi concorsi. Molti youtuber stanno partecipando per la Spagna mentre io partecipo per la Germania. L'hanno aperto da poco quindi anche in questo caso vi lascio in descrizione il link. Anche qui si tratta di votarmi e appunto farei un tre giorni in Germania appunto collaborando con questa azienda. Io spero che mi darete il vostro sostegno, mi sarebbe davvero molto utile e ovviamente è inutile dirvi che se dovessi partire da qualche parte vi porterai con me con appunto macchina fotografica, gopro, cellulare, sia quindi sui social che anche poi con un video dedicato nel caso. Io spero che appunto mi sosterrete, vi ricordo in descrizione trovate oltre i link per votarmi i link anche a tutti i miei social per seguire quello che combino in diretta e vi ricordo che appunto lunedì prossimo esce un altro video dall'Australia come al solito se non dovessi essere, a meno che non sono in ritardo che ultimamente sto avendo problemi con la connessione e il giovedì appunto esce appunto un video random appunto come un po' come questi magari o qualcosa di un pochino diverso. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete metterci un bel like potete condividerlo così magari anche i vostri amici possono darmi una mano e potete anche magari commentarlo se avete qualche idea per il canale o se volete farmi qualche domanda io spero di non avervi annoiato troppo, ci vediamo al prossimo video Have a nice life! Ciao!